Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati con Mattino 6, il giorno che chiude il mese di febbraio, il 29 di febbraio, lo salutiamo per qualche anno questo giorno, noi lo iniziamo con la nostra rassegna stampa come sempre dedicata all'inizio alla cronaca e poi l'ampia pagina di sport con anche tanti servizi e un desueto lunedì di vigilia per Pescara e Virtus Lanciano perché domani sera ci sarà il turno infrasettimanale valevole per la 29esima giornata con il Pescara che ospiterà il Trapani cercando riscatto dopo il pareggio con Lascoli di sabato, mentre la Virtus Lanciano che viene dalla importante vittoria sul Bari cerca punti salvezza sul campo dell'ultima della classe, il Como. Ieri giornata positiva per Avezzano e Chieti, ha perso la Miternina in serie di questo, mentre in Lega Pro c'è stato il pareggio del Teramo 1-1 con la Maceratese, alquanto sfortunato questo pareggio dopo lo 0-0 che invece aveva interessato l'Aquila contro il Tutto Cuoio. Giornata agrodolce invece nel basket con la vittoria della Pro Gerchieti e la sconfitta a casa ringa del McEnergy Roseto. Ma spazio alle testate nazionali, ne vediamo alcune, partiamo dal Corriere della Serra. Questa è l'apertura, avendo la genitore un caso politico, lui è solo amore, attacchi per il figlio con la maternità surrogata. Poi c'è l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, un paese che non sa discutere. Sotto la testata la Juve e il derby d'Italia, l'Inter affonda nella crisi, stasera Fiorentina-Napoli. Poi la fotonotizia dedicata alle primarie negli Stati Uniti, l'ora della svolta per Hillary Clinton, vittoria decisiva nel South Carolina. In taglio medio, economia, niente aumento dell'IVA e tagli anticipati delle tasse. Intervista con il Vice Ministro Morando. E poi in basso i trucchi per reclutare italiane nell'ISIS. Contattate da ragazze sulla rete per parlare di ricette e look. Poi le lezioni sul califato. Prima pagina ora della Repubblica. Tasse si accelera. L'obiettivo l'IRPEF e la busta paga. E le buste paga. Il governo vuole meno prelievo nel 2017 giù i contributi alle aziende e ai lavoratori. E poi al centro la fotonotizia. Migranti, l'appello del Papa. Non lasciate sola la Grecia. Si aggrava l'emergenza al confine con la Macedonia. Poi la copertina nelle stanze dove si vince il Nobel della Pace. Andiamo in taglio medio. Vendo la papà. Litte con Salvini. Egoista. Tu uno squadrista. Un figlio negli Stati Uniti per il leader della sinistra italiana. E il compagno. E poi ancora l'intervista del Rio. Il PD è di sinistra. Verdini resterà fuori sulle adozioni. È stato giusto rinviare. Sempre in basso il personaggio Zuckerberg. Parleremo soltanto con le chat. E poi da quest'altra parte il ciclone Golia sull'Italia camminando nella neve tra i monti di Rigoni Stern. Avanti con la testata del giornale. Questa l'apertura. Primari americane. Il duce corre per la Casa Bianca. Trump cita Mussolini. Scoppia la polemica. E perfino i repubblicani ora provano a fermarlo. Carte USA. La sinistra voleva distruggere Berlusconi e le sue aziende. C'è l'editoriale. Nozze gay e ius soli. Crescita morale. L'ultima missione nel PD è rieducare gli italiani. Poi ancora lo slogan della grande guerra. Un giorno da leone. La frase presa in prestito è diventata un simbolo. Scendendo in basso gli animalisti e specie protetta. Giù le mani dal piccione. Il master chef Cracco denunciato per averlo fatto a Rosto. E poi scendendo ancora i gazebo di Roma mettono a rischio l'alleanza. Bivio Lega dentro o fuori dal centro-destra. Consultazioni per un nome alternativo a Bertolaso. Dove vuole arrivare Salvini. E poi in basso il finale di partita di Giuseppe De Bellis dalla Vona Curry. L'era dei super sportivi. Il fatto quotidiano che andiamo a vedere in questo momento. L'apertura banche. Ora gli espropri facili proteste contro il governo anche da parte dei parlamentari DEM. Non passerà sotto la testata Air Force Renzi. Ecco i misteri. I ricercatori, i soldi. Dategli a noi. Dai costi alla manutenzione. Tutto top secret. E poi ancora nella polveriera Siria dove la tregua è finta. E nel nome di Assad. Guerra per bande. ISIS e vecchio regime. E poi ancora scendendo in basso PD a Roma e a Napoli vincono sbadigli e ricorsi. Pochi appuntamenti. Tante accuse in vista delle primarie. Poi in fondo alla pagina c'è il giubileo. Puoi leccare il Papa Francesco Vuittivo e perfino la Madonna. E troppo anche per me nella gadget di Stefano Disegni. Andiamo a chiudere con la prima pagina del messaggero nazionale. Dopodiché passeremo alle prime pagine di centro e messaggero Abruzzo. Allora l'apertura del messaggero nazionale. Adozioni gay. Il caso che divide. Nasce negli Stati Uniti con maternità surrogata. Il figlio di Vendola. La destra attacca. Lui solo squadristi. Renzi frena sul DDL. Per la legge ci vorrà almeno un anno. Prima c'è il referendum sulle riforme. Poi sotto la testata lo sport. Napoli insegna rapinato in centro. Il bandito chiede dedicami un gol. Roma la cura Spalletti e salta il gruppo. Arriva Pallotta. I casi da risolvere. Poi l'editoriale di Carlo Nordio. Apple FBI. Dati da svelare. Proibita solo la diffusione. E poi, restando negli Stati Uniti, le primarie. Hillary sommerge Sanders. Ora teme solo i veleni libici. E Trump cita Mussolini. E poi ancora, in taglio medio, maxi stipendi nelle regioni. Così gli enti aggirano i tetti. Da Bolzano alla Sicilia. Sempre più violato il limite di 240 mila euro. In gara per il Campidoglio. Il referendum della Lega a Roma boccia Bertolaso. E spinge Marchini in basso. Migranti. Bozza italiana per le nuove regole sull'asilo. Lasciamo dunque i titoli della cronaca nazionale. E ora ci concentriamo sulle prime pagine del centro. Partiamo dalla prima pagina di Chieti. Carichieti, ho perso 200 mila euro. A vasto altri risparmiatori beffati. Una vedova presenta denuncia per truffa alla procura. È andato in fumo il risarcimento ottenuto per la morte del marito in un incidente stradale. Poi di spalla la lettera di un professore. Le biblioteche in rovina sconfitte da Wikipedia. Al centro la fotonotizia. Calcio e basket sugli scudi. Il Chieti e la Proger vincono e fanno festa. Poi i richiami di cronaca. Chieti, una mamma disperata. 8 marzo per Roberta. Il dono sarà lo sfratto. Malati lasciati sporchi durante la colazione. Tutto questo a Chieti nel policlinico. In particolare nel reparto di geriatria. Parrocchia di Orsogna. Equitalia alla chiesa. Debito da 100 mila euro. E poi ancora medicina, prevenzione e consigli. Influenza in Abruzzo. Vaccinato. Un anziano su due. E poi l'inserto per chi cerca lavoro. Domani cinque pagine con tutti i nuovi posti. In basso il Borgiano Abruzzo di Rossano Orlando. I nati il 29 febbraio. Quando festeggiano? Eh sì, abbiamo detto che questo 29 di febbraio lo ritroveremo tra quattro anni. Prima pagina ora di Teramo. Donati gli organi dopo l'incidente. Una pensionata di colonnella di 68 anni muore dopo oltre due settimane di coma. E spianto a Santomero. Il fegato e i reni vanno a Torino. E l'Aquila. Salveranno tre vite. Fotonotizia. Al centro Teramo domina e non vince. E un pari amaro. Nel basket Roseto cade dopo quattro vittorie. Poi i richiami di cronaca. Invalida con la protesi. Chiede i danni alla ASL. Il caso di una Teramana. Incidente a Silvi. Frontale con cinque feriti. C'è anche una dodicenne. A Giulianova sparita. Dopo la scuola. La ragazza era al porto. Prima pagina dell'Aquila. Sfregia il volto dell'amico arrestato. A Celano nei guai un marocchino per il quale era stata già disposta l'espulsione a causa di altri reati. L'uomo ferito e ricoverato in osservazione gli sono stati applicati 60 punti di sutura. E poi la fotonotizia per i funerali del giovane scomparso sabato mattina. Lacrime e canti per l'ultimo saluto a Marco a Castelvecchio. Subequo addio al motociclista. Per la cronaca i richiami. Promoter morto. Sentiti i parenti. All'Aquila indaga la procura. Il promoter Stefano Di Giacomo. Che vediamo appunto nella foto. Il progetto. Alex Race Romoli. Un centro per stranieri. Per il calcio di Serie D. L'Avezzano batte la vice capolista. E ora andiamo con la prima pagina del centro di Pescara. Poi andremo a sfogliare l'edizione odierna. Multe ai fumatori in ospedale a Pescara. Prime sanzioni per chi non rispetta la normativa antifumo nelle strutture sanitarie e le contravvenzioni dei NAS dell'importo di 55 euro scattate all'ingresso dello Spirito Santo. E poi ancora veleni dopo il derby tra Pescara e Ascoli. L'Ascoli accusa. Sebastiani replica. State zitti. Eletto l'avvocato pescarese. Gneddu presidente della Croce Rossa. E poi omicidio bottega. Parla la sorella Giulio. Dove è finito il corpo di Teresa? Proroga delle concessioni. Balneatori in rivolta. In 300 dal ministro. All'interno delle pagine del centro. Pagina 7. Quella dell'Abruzzo influenza vaccinato un anziano su due. La percentuale è tornata ai livelli di tre anni fa dopo l'effetto paura del 2015. Poco più di un migliaio i giovani e i bambini. Ai malati, dice Walter Palumbo, ai malati dico di restare a letto e di prendere gli antipiretici. Per gli antibiotici aspettate un paio di giorni. E il medico, dice appunto Walter Palumbo, medico di base, coordinatore dell'associazione intersindacale sanitaria abruzzese. Il congresso tumore al seno, guarigioni all'85%, gli specialisti, è il più diffuso ma anche il più attaccabile da nuovi farmaci. La prevenzione è auspicabile, la mastectomia di Angelina Jolie solo in determinati casi. Piano sanitario, Forza Italia alza il muro, pronti a contrastarlo in ogni modo. Avanti ancora, piano rifiuti, operazione verità nel Consiglio straordinario. Oggi la giunta regionale risponde alle richieste del Movimento 5 Stelle di Forza Italia su inceneritore, scenari e strategie. Il sottosegretario Mazzocca parla di scelte ambientali, rimontazione insinua nel futuro, la gestione ai privati. E poi in basso la riforma di Cotir, Crabbe e Crivea, centri di ricerca, un passo al buio. La CGL, la Regione C, boicotta sul Piero di Riordino, pronti alla protesta. E ora le pagine di Pescara e Provincia. Balneatori in 300, oggi dal Ministro, serve una soluzione. Imprenditori da Abruzzo e Molise, oggi a Marina di Carrara, contro la bocciatura della proroga delle concessioni. Qui prendono la parola alcuni dei titolari di stabilimenti balneari a Pescara. La proposta di Padovano, gestori e regioni insieme, come in Veneto e Bersiglia. L'incompiuta dei 64 alloggi. Ecco il cantiere Fantasma. Viaggio all'interno dei due palazzi in costruzione tra Via Tavo e Via Tronto. I lavori costati 11 milioni sono fermi, ma dovevano essere completati nel 2017. In basso, quartieri degradati, il PD promette di Pietrantonio, incontro con D'Alfonso e i vertici Ater per soluzioni concrete. Avanti ancora con l'omicidio bottega. Abbiamo visto un richiamo in prima pagina. Giulio ci dica dov'è il corpo di Teresa, lo sfogo della sorella Maria Pia, dopo che la corte d'assise d'appello ha evitato per la seconda volta il carcere a Morrone. Non mi interessa che vada in prigione, chiedo solo che la smetta di dire menzogne, deve dirci una volta per tutte dove ha lasciato il corpo. È un incantatore di serpenti, ma non potrà ingannare Gesù Cristo. La figlia è giusto che stia dalla parte del padre, non la giudico. Queste le parole appunto della vittima. E per Morrone è stato un momento di ira. Ecco come il marito raccontava l'omicidio di Teresa a un amico. Agli atti altre testimonianze. Il racconto di una sorella, trovammo Giulio con alcuni uomini che consumavano cocaina in soggiorno. Nescaturi una lite, Teresa fu picchiata. Avanti ancora con sempre le pagine di Pescara. Al mercato i ragazzi che inventano lavoro. La struttura al coperto di Piazza Muzzi, aperta fino a mezzanotte per lo start-up community party dedicato alle micro-imprese. Poi di spalla per il triennio 2016-2019, Lucio Fumo, confermato alla guida del Comitato Italiano di Musica. Avanti ancora malattie rare del sangue. In cura 2.500 malati cronici. A Pescara, il centro di riferimento regionale. Il responsabile Dragani, a fronte di 8.000 visite nel 2015, siamo solo due medici. Un borsista e un dottorando. Come abbiamo visto in prima pagina, elezioni per la Croce Rossa. Fabio Nieddu è il nuovo presidente. Poi in basso la sfida di Roberto, podista New York, centorame, 45 anni. Uno dei pazienti emofilici in cura al centro di Pescara, racconta la sua maratona. Avanti ancora con la cronaca. Andiamo a chiudere con Pescara e provincia. Blitz dei Nass all'ospedale. Multati fumatori. Iniziativa dei Carabinieri per verificare il rispetto della normativa antifumo. I due cittadini sorpresi con la sigaretta devono pagare una sanzione di 55 euro. A Montesilvano, invece, tra Deco, ora i lavoratori temono il licenziamento. Pagina di Chieti. Perde 200.000 euro del marito morto. Quindi risparmiatori beffati, sempre per il caso ex Carichieti. Il risarcimento per la tragedia stradale va in fumo con le subordinate. La vedova presenta denuncia per truffa. E poi in basso, 8 marzo, per Roberta, il dono sarà lo sfratto. Guadagna 350 euro e a un bimbo di 5 anni il comune. Liste lunghe per le case parcheggio. Andiamo ora con la pagina dell'Aquila. A Celano sfregge il volto di un 46enne arrestato. In manette un giovane marocchino per il quale era stata disposta dal questore l'espulsione dal territorio italiano. E poi in basso, Tagliacozzo è morto Rubeo, ex socialista e giornalista dell'Avanti. E mistero all'Aquila, promoter morto sentiti i parenti. La polizia vuole sapere se Di Giacomo avesse problemi economici. Pagina di Teramo. Spianto a Sant'Overo lo scontro 16 giorni fa. Muore dopo l'incidente. Donati gli organi, la donna di Colonnella non era mai uscita dal coma. Il fegato ai Reni vanno a Torino e l'Aquila per salvare tre vite. A Giulianova, dopo la scuola, non torna a casa. Una sedicenne ritrovata al porto. Andiamo avanti con il messaggero. Poi faremo la pausa meteo con Giovanni De Palma. Ma prima vediamo la prima pagina del messaggero Abruzzo e le pagine successive. E' già iniziata l'emergenza idrica nel Terramano. La Ruzzo lancia l'allarme. Le piogge non bastano, servono le nevicate a Civitella. Acqua razionata fin d'ora. Si teme per l'estate dalla vibrata alle aree costiere. Sotto la testata lo Sport. Pescara nessuno squalificato per il caso del Fabro. Basket e volle di A2. Vittoria Netta per la Proger Roseto si inchina. Brava Sieco. E poi calcio di Lega Pro fa tutto il Teramo. Un pareggio che sa di beffa. Artale. Abbiamo fatto conoscere la nostra terra in Germania. Rocco Guida. Wolfsburg. L'associazione che riunisce i nostri corregionali. La fotonotizia. Per l'Aquila una promozione a pieni voti. Successo per i mondiali studenteschi di sci. E poi per la cronaca. Varchi elettronici per accedere all'area di risulta. Le novità annunciate da Pescara. La parcheggi nell'ambito del maxi intervento di riqualificazione. Nel Fucino virus attacca le colture. All'interno del quotidiano. Varchi elettronici all'area di risulta. Le novità annunciate nell'incontro rinfresco con Angela Sum. Corsi di formazione per i dipendenti in vista del concorso. Un front office per ticket e info al terminal bus. E poi vi racconto il futuro. Parola di ministro Cristina Persson. Ospite al forum 2016 di Pomiglio Blum. Appunto la svedese Cristina Persson. Fumano davanti all'ospedale e vengono multati dal NAS. Come abbiamo visto anche sul centro. Poi a L'Aquila mondiali studenteschi. Promozione a pieni voti. Il presidente della federazione internazionale. Carte in regola per un'altra manifestazione. Arrivati i complimenti del ministero agli organizzatori. Un grande successo. Il momento più toccante davanti alla casa dello studente. Parola di Antonello Passacantando. Direttore dell'organizzazione. Nuovo manager scelta agli sgoccioli. Decisione forse domani a fondo di Pietrucci. Serve chi conosce la realtà territoriale. Pagina della Marsica. Un virus minaccia l'insalata del Fucino. L'allarme che si aggiunge all'emergenza della siccità. Lanciato da Confagricoltura. Che chiama a raccolta gli esperti. Distrutti molti ettari anche di radicchio. In programma un summit che si terrà mercoledì prossimo a Trasacco. Pagina di Chieti. Filippone via al progetto per il centro sportivo. Programmato intervento di riqualificazione per oltre 1,3 milioni. Previsti campi da softball, calcio a 5, basket e bocce. Ci sarà anche un percorso vita. A Lanciano, primarie, pupillo. La città è resuscitata. La presentazione in una gremita. Sala Cinerini. Sintetizza il lavoro dell'amministrazione con grafici e dati. Abbiamo completato tante opere. E andiamo a chiudere con la pagina di Teramo. Emergenza idrica, acqua già razionata, gli effetti del clima. Inverno troppo mite e poche precipitazioni. Allarme dei sindaci. C'è dispersione nelle condotte. Si punta tutto sul potabilizzatore di Montorio. Domenico Giambuzzi è responsabile della Ruzzoretti. Stiamo facendo la danza della neve in via dati. Poi a Giulianova, pulizia aerea portuale. Mastromauro decida. Il consigliere Antelli chiede al sindaco di fare chiarezza. Poi a Roseto, ex Monti, le maestranze si ritrovano dopo 42 anni. Ci fermiamo con la cronaca, con il messaggero Abruzzo. Come promesso andiamo ad ascoltare Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Andrea. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Come avrei potuto sentire, già si parla sui giornali di emergenza idrica. Capisco che questa è una tematica più generale rispetto a previsioni del tempo da fare a Doras, ma è comunque una testimonianza del fatto che quest'inverno è stato sin troppo mite, anche a livello di precipitazioni. Sì Andrea, è piovuto davvero poco. Basta segnalare il dato di dicembre che è stato senza alcuna precipitazione in tutto il territorio regionale. Quindi questa situazione riassume un po' quello che è stato l'inverno, che continua ad essere. Anche se in questo momento la nostra penisola è interessata da una intensa perturbazione che tuttavia, essendo posizionata sul medio-alto settore tirrenico, interessa principalmente le regioni settentrionali e gran parte della fascia tirrenica, nonché le zone appenniniche, dove è presente una diffusa copertura nuvolosa, anche sulla nostra regione, in particolar modo sulla Marsica e nell'Aquilano, dove nelle prossime ore continueranno a manifestarsi annuolamenti e precipitazioni localmente a carattere temporalesco, con nevicate sui rilievi intorno ai 1.500-1.700 metri, ma localmente anche a quote lievemente più basse. Ben diversa la situazione al mattino e al primo pomeriggio sulla fascia orientale della nostra regione, soprattutto sulle zone collinari lungo la fascia costiera, dove splenderà il sole, perché comunque soffieranno anche dei venti dai quadranti sud-occidentali e questa situazione impedisce proprio l'arrivo di sistemi nuvolosi che possono portare delle precipitazioni. Almeno fino a tardo pomeriggio sera non cambierà la situazione, andrà in tempo più chiuso sul settore occidentale, ma poi lo spostamento di questa intensa figura depressionaria verso le regioni meridionali favorirà comunque un'estensione della nuvolosità in serata, in nottata, ma soprattutto nella giornata di martedì, con precipitazioni che potrebbero interessare un po' tutto il territorio regionale, ma tenderanno poi ad assaurirsi nella serata di domani, nella giornata di mercoledì, quando è prevista una tregua. Una tregua perché poi un nuovo sistema nuvoloso di origine nord-atlantica, stavolta sembra destinato a raggiungere la nostra penisola nel corso della giornata di giovedì, favorendo un veloce peggioramento del tempo, con una generale diminuzione delle temperature. Quindi poi si susseguiranno ancora perturbazioni atlantiche, ma si tratterà comunque di una situazione che non è persistente, non si prevedono precipitazioni persistenti, ma saranno veloci passaggi che si alterneranno a rialzi di temperature e a rinforzi del vento. Bene Giovanni, è un lunedì di vigilia questo, ti sei ripreso da questo 2-2 nel derby con Lascoli, in vista della gara di domani col Trapani? Ma sì, bisogna archiviarla questa partita, Pescara l'ha iniziata male, l'approccio è stato sbagliato, abbiamo regalato praticamente le occasioni all'Ascoli, che era, devo dire, ben messo in campo, proteggeva il centrocampo della difesa, era molto ben messo in campo, ci impediva di produrre delle manovre efficaci, ma poi ovviamente l'approccio sbagliato, ha fatto sì che l'Ascoli comunque trovasse il gol sul nostro errore, e quindi poi tutta la partita si è complicata. Poi, dobbiamo dirla tutta, anche il Pescara è in debito, cioè praticamente è sfortunato, al ciò dobbiamo aggiungerci anche il fatto che abbia tanta sfortuna, perché insomma in molte occasioni è mancato quel pizzico di fortuna che avrebbe potuto comunque aiutare la squadra pescarese. Così non è stato, adesso c'è il Trapani, insomma dovremmo sicuramente puntare alla vittoria, perché insomma le squadre che stanno al di sotto, quindi il Cesena si avvicina perché sta passando un ottimo momento di forma. Andrea. Grazie Giovanni, buon lunedì. Grazie Andrea, un buon lunedì anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Bene, grazie a Giovanni De Palma, andiamo con la Gazzetta dello Sport, apriamo l'ampia pagina dunque sportiva, questa è l'apertura, the winner is Juve, notte da Oscar allo stadio, Inter battuta 2-0, Bonucci Star è morata su rigore, i bianconeri volano a più 4 aspettando il Napoli, per Mancini 0 punti e squadra senza gioco. Nuovo ritiro, e poi di spalla test Fiorentina per il Napoli, Kalini Ciguain nei 5 duelli top, la Samp si stacca dalla zona B, Frosinone Carpi-Verona è dura, e poi Inghilterra tutti i pazzi per Baby Rashford al Manchester City, la Coppa di Lega, e poi in basso NBA 12-triple in una gara, il marziano dei Canestri Curry segna da 10 metri, il mondo è ai suoi piedi, Scili ha punti in combinata la marziana delle nevi, Fon, ma che frattura, sì, io sono bionica, e poi ciclismo, paura per Fiec, corsa sciocca a Lugano in bici, vola da 12 metri e cade nel lago ed è salvo. All'interno, pagina 2-3, Leonardo e il Titanic, Bonucci affonda l'Inter, Napoli a meno 4 dalla Juve, Mancini ora si fa dura, il protagonista appunto è Bonucci, gol temperamento e spirito bianconero, una notte da Leo Ne. Avanti ancora con le dichiarazioni dei due allenatori, era importante vincere contro una squadra tosta, dice Allegri, Mancini marca visita, Zanetti è ora di prendersi grandi responsabilità. Avanti ancora con la sfida di questa sera, tra Fiorentina e Napoli, Sousa e Sarri allo specchio, grande bellezza o solo illusione, e poi pistoli in faccia e rapina, sabato di paura per Insigne, l'attaccante aggredito con mogli e amici, bottino di circa 30 mila euro e la richiesta di una dedica dai malviventi. Poi ancora la sfida si fa in 5, Fiorentina-Napoli duello per duello, da Borca al Pipita, quelli che decidono. Luciano e Sinisa rimonta parallela, testa e tattica, Roma e Milan sono tornate, grandi così. Andiamo avanti nella pagina della Serie B e della Lega Pro, questa sera appunto inizia il turno infrasettimanale con l'anticipo della 29esima giornata, Brivido Cagliari è in emergenza, ma al Sant'Elia non fallisce mai, Rastelli dice siamo in 16, bisogna lottare, il Novara vinse l'andata, Baroni solido, poi ancora il cambio in panchina al Latina, Somma cacciato, il Latina per ora va a Chiappini, e poi in basso il giudice sportivo, Ascoli tre giornate di stop a Milanovic. Per la Lega Pro, il Teramo fa e poi disfa, alla fine solo un pari, maceratese deludente, migliore per il Teramo, lo vedete, Amadio voto 7, lui l'autore del pareggio nella ripresa. E poi ancora la domenica della paura, volo di 12 metri giù nel lago, era finita, e ringrazio Dio, nel GP di Lugano, il tedesco FIEC, racconta in ospedale il miracolo, sono caduto, ho battuto su una trave, e poi l'acqua, ecco qui la scena davvero inquietante, ieri nel corso della competizione. Poi chiudiamo con il basket, l'ultima impresa del Marziano, tutto il mondo ai piedi di Steph, la star dei Warriors, segna il canestro della vittoria da quasi 10 metri allo scadere, tanti tweet da parte di altri giocatori, in particolare Lebron James, che dice, deve smettere a ragazzi, è assurdo, mai vista una cosa simile nella storia del basket, tutti ai piedi dunque, del nuovo padrone della Lega, Stephen Curry. Lasciamo la gazzetta dello sport, e ci fermiamo qui per il momento, poi la seconda parte, con il Corriere dello Sport, e le testate abruzzesi, oltre che i servizi. Ben ritrovati, con Mattino 6, riprendiamo la nostra rassegna stampa, con la prima pagina del Corriere dello Sport, la Juve affossa l'Inter, finisce come voleva Bonucci, i bianconeri sempre più primi, i nerazzurri sempre più in crisi, il difensore azzurro segna il gol, che spezza la resistenza di Mancini, Morata firma il rigore del 2-0, nei primi minuti, traversa di Hernanes, il vantaggio sarà più 4, il Napoli va a Firenze, serve solo la vittoria, Insigne è rapinato, con una pistola, e se fai un gol, dedicalo a me, l'opinione di Alessandro Vocaleli, la prova di forza dei campioni, in basso, oggi Cagliari-Novara, domani gratis, un giornale tutto sulla B, poi l'NBA ha un nuovo re, Delirio-Curry, tripla decisiva, da metà campo all'interno, battuta l'Inter, due colpi da K.O., la Juve va a più 4, poi Allegri, bravi i ragazzi, contava vincere, poi ancora, Inter-Tesa, Auxilio attacca la squadra, il DS, sono incavolato nero, ora servono gli attributi, poi Bonucci, chiamatelo l'affossatore, dovevamo dare un segnale forte, Marotta, Leo piace a Pep, lui ha scelto la Juve, vediamo la pagina, sul posticipo di questa sera, alle 21, Sousa siamo felici di giocarsela, e dalla parte opposta, Sarri è solo il caso di vincere, avanti ancora, con l'episodio che ha riguardato Insigne, la rapina, la paura, e dedicami il gol, Lorenzo minacciato e derubato, con tanto di richiesta, avanti ancora, con la pagina sulla Serie B, Cagliari non sbagliare più, Rastelli deve cancellare il K.O. di Cesena, col Novara Saradura, ma bisogna vincere, e poi Latina, pagasomma, panchina, a Chiappini, dopo il divorzio da Iuliano, un nuovo esonero, per la Lega Pro, fa tutto il teramo, ma è pari, l'autogol di Perrotta, spingerà maceratese, Amadio rimedia. Andiamo ora, alle pagine del centro, del messaggero, ripartiamo dalla Serie B, ma più in generale, ripartiamo dall'Unione di Sport, del centro, Pescarascoli, ancora Scintille, il DG Bianconero, Lovato, attacca, Sebastiani risponde per le rime, e il Lanciano perde salviato, poi basket di A2, la Proger torna al successo, Roseto si arrende nel finale, palla a volo di A2, la Sieco impavita da un calcio alla crisi, Civita Castellana, K.O. Cicloturismo, Fedele si aggiudica la Gran Fondo, Masciarelli. In Lega Pro, il teramo domina, ma non batte la maceratese, poi ancora, Serie D, colpo delle Chieti, Fano K.O. L'Angelini, la Vezzano risorge, eccellenza, la vastesa rallenta, il paterno accorcia, meno 4 promozioni, il Ponte Romano batte i Nero Stellati e si riprende la vetta, e poi in basso, l'esempio dei ragazzini, no al razzismo, le squadre di Renato Curiangolana e Giulia Nova, giovanissimi, in campo, con una scritta speciale, sulle maglie, avanti con le pagine, sulla Serie B, ma iniziamo dal Pescara, Pescara Ascoli, ancora Scintilli, il DG Lovato attacca, Oddo, Sebastiani, ma chi sei? La dirigenza bianconera, rinfocola le polemiche, Bruno ha dato uno schiaffo, il presidente, noi in zona Serie A, e loro rischiano di tornare in Lega Pro, il baffo del delfino di Antonio De Leonardis, dal mercato, un apporto insufficiente, insufficiente, e non si può che essere d'accordo, su questa affermazione, l'apa del Fabro, scontro di gioco, immagini e foto, smentiscono la tesi del colpo proibito, a fine partita, ecco lo scatto, in questione di cui abbiamo parlato, anche ieri, e poi c'è quest'altra foto curiosa, gli amici riservano il posto a Cocco, che non era stato convocato, per scelta tecnica dal tecnico Oddo, e gli amici Aresti e Bruno, gli hanno riservato un posto in panchina, con il suo numero di maglia, il 19, e poi con una croce sopra, e questo appunto, un siparietto, occorso in panchina. Vediamo sul messaggero, la pagina sul Pescara, il Trapani è un esame, Biancazzurri da un mese senza vittoria, ma non ci sono preoccupazioni, contro l'ex Cosmi però, servono i tre punti, il tecnico ha commesso qualche errore di valutazione, ma resta lui il grande protagonista di questa stagione, dal giudice nessuno squalificato per la rissa, l'Ascoli Oddo, pensi ai suoi errori, con un comunicato, il club bianconero risponde al tecnico, con le sue scelte, ci stava regalando la vittoria, resta ancora da migliorare la fase difensiva, troppa ansia sabato, contro i marchigiani. Ora, noi sentiamo quello che è stato, un protagonista inatteso della partita tra Pescara e Ascoli, ovvero il centravanti Cappelluzzo, che è entrato a mezz'ora della fine, ha segnato il gol del momentaneo vantaggio. Sì, purtroppo è andata male, abbiamo preso un gol su pallena attiva, su una respinta, purtroppo capita, dobbiamo stare un po' più attenti, un po' più concentrati, solamente questo. Tu hai visto il primo tempo dalla panchina, è stato forse il più brutto Pescara in casa, in questa stagione, forse anche una sottovalutazione dell'avversario, troppa sicurezza di vincere, oppure che cosa? Ma no, noi siamo entrati in campo non come facciamo di solito, solo questo, non abbiamo sottovalutato nessuno, è stata una partita un po' iniziata male, poi siamo riusciti un attimo a riprenderla, e poi, come ho detto, purtroppo è andata così. Però noi lavoriamo, continuiamo a lavorare, dobbiamo sfruttare al meglio le occasioni, e oggi diciamo è stata un'occasione persa. Una giornata comunque per te importante, primo gol con la maglia del Pescara, e forse la consapevolezza di poter essere utile la causa bianca-azzurra in questo lunghissimo rush finale del campionato. Sì, no, io come ho detto a gennaio mi è stato chiesto se dovevo andare via o meno, ma io sono stato convinto di rimanere qua, e quindi non c'è stato nessun dubbio, quindi sono stato qua. Ancora sul messaggero, Virtus, la salvezza passa per il Biondi, mister Maragliuli, i risultati delle altre squadre adesso mi interessano poco, l'importante è che la squadra si comporti come nella partita vinta con il Barri, il fattore campo sarà fondamentale, ci credono anche i tifosi, sperando in un colpo in trasferta. Ferrari, se sto bene, posso fare la differenza, questo dice il match winner di sabato contro il Bari, e a Como possibile, un mini turnover della squadra. Sul centro, vediamo la pagina sul Lanciano, la zona retrocessione, il Lanciano cambia, per stupire ancora, oggi si decide per Amenta e Marilungo, ma comunque Maragliulo vuole immettere forze fresche per lo scontro diretto di domani a Como. Il difensore Aquilanti tornerà a destra, mentre Bonazzoli e Giandonato potrebbero giocare dall'inizio. Rocca dice, sono una mezzala, ma mi adatto. E allora, ascoltiamo le parole proprio di Michele Rocca, questo ragazzo classe 96, arrivato in prestito dalla Sampdoria, e poi il centro avanti Nicola Ferrari, match winner contro il Bari. Molto bello, anche se non ho ancora rivisto, però l'importanza è quella che mi dà più soddisfazione, perché era una partita difficile da sbloccare, sembrava molto complicata, invece si è messa molto bene, quindi siamo fiduciosi, siamo carichi, e quando ci si crede poi succedono gol come questi, vittorie importanti come queste. Nicola, la chiave di volta di questa partita, quale è stata? Nel secondo tempo l'approccio era stato più convinto del Lanciano, poi il tuo gol, in un momento anche particolare, l'ha detto anche Maragliulo, io lo stavo per cambiare, Nicola Ferrari, stava per entrare Bonazzoli, e invece ha avuto ragione il mister. Ah, è così, come hai detto prima, quando si entra in campo più convinti, poi è normale che la testa poi ti permette di fare tante cose, oggi mi sentivo bene, oggi a prescindere dal primo tempo, insomma, mi sentivo la gamba, sentivo che stavo bene, e quando si sta bene testa e gambe, poi può succedere di tutto. Sì, tantissima sofferenza, però siamo contentissimi, adesso siamo al settimo cielo, ed è va bene così, è giusto così, siamo in un momento euforico, adesso ci godiamo questa giornata, questa serata, da domani voltiamo già pagina, e pensiamo a preparare la prossima partita col Como. No, beh, è sempre bello giocare assieme a giocatori di esperienza, perché possono darti una mano, possono darti dei consigli, io ho approcciato la partita come l'approccio normalmente, anche se gioco magari con Mattia, che ha un anno in meno di me, che è giovane, e cerco sempre di dare il meglio, di mettere la cattiveria giusta. La Lega Pro sul centro, l'Aquila spera nell'appello per riconquistare i sette punti, potrebbe arrivare oggi stesso la sentenza molto attesa dal club Rosso Blu, sul processo calcio scommesso, in bilico la classifica e i futuri assetti societari. Poi, la due pagine su Teramo, Teramo un pari che sa di beffa, fa tutto il diavolo contro una maceratese inguardabile, autorete, assedio e gol dell'1-1. Le pagelle, voto 5 per i due protagonisti, negativo dell'autogol che ha portato in vantaggio la maceratese, quindi per Rotta e anche il portiere Tonti, poi voti medio-alti per gli altri, soprattutto a centrocampo con il sette ad Amadio, e poi di nuovo voti bassi per l'attacco, dove c'è il 5 per Forte, che è stato anche fischiato ieri dal pubblico del Bonolis. Vivarini ci gira male, ma dai giocatori ho avuto risposte, il tecnico guarda già a Prato, sarà una battaglia la presidentessa marchigiana. Mi sono vergognata. Amadio, avrei preferito giocar male e vincere, forse oggi il verdetto sulla riduzione della penalizzazione, nuovo di S, Campitelli incontra Minguzzi. Sul messaggero il Teramo fa tutto da solo, finisce 1-1 contro la maceratese, nel primo tempo autogol di per Rotta, poi nella ripresa rimedia Amadio. Anche in questo caso voti bassi per Tonti e per Rotta, voti un po' più alti a centrocampo, e di nuovo voti bassi in attacco, in particolare 5 per Forte. Poi ancora inutile l'assedio nel finale, Forte sostituito per i playoff, la speranza è ancora viva. Oggi si attende il verdetto per Dirty Soccer, la Tardella se la prende con il Patron, la Corte federale deciderà sul possibile annullamento o sconto della penalizzazione. Poi le parole del tecnico Vivarini, potevamo sfruttare meglio le occasioni. Allora andiamo a vedere proprio le fasi salienti di Teramo maceratese e poi un estratto delle dichiarazioni dell'allenatore Biancorosso Vivarini. Ha pareggiato perché insomma un po' di imprecisione, un po' di sfortuna è andata così. Con questo pareggio nessuna novità particolare nel Teramo, mancava ancora Petrella, mancavano gli squalificati Scipioni e Cruciani, hanno giocato Paolucci sulla fascia, ha giocato Brugaletta sulla fascia destra, Paolucci ha giocato in mezzo di Palantonio a sinistra, ancora Lenoci in avanti al posto di Petrella, Togni al posto dello squalificato d'Anna, l'unica novità nella maceratese. Si capisce già dai primi minuti che è una partita a senso unico, che la maceratese punta sulle ripartenze, ma non riuscirà mai a ripartire essenzialmente. Qui vediamo delle occasioni che ancora non sono delle occasioni importanti, questo è uno spunto di Paolucci che ha giocato una buona gara e questa è la prima vera pallagol che capita sul destro di Cenciarelli e si vede che non è il suo piede. Poi c'è un'altra conclusione di Lenoci, ma è debole ed è bloccata dal portiere forte, omonimo del Francesco Forte attaccante del Teramo. Poi i crossi di Paolo Antonio, eccolo Francesco Forte attaccante che sfiora il palo, sarà fischiato nel secondo tempo. Ed ecco la frittata, 43esimo, lancio di Carcalis, sembra innocuo, in effetti lo sarebbe, ma per rotta sbaglia il retropassaggio, non si intende con Tonti e la palla finisce in fondo al sacco. Questa sarà l'unica azione della maceratese che vedremo nel corso di questi highlights, se non mi sbaglio. Ma comunque la maceratese davvero non ha fatto nulla e non ha fatto nulla neanche per segnare questo gol, che è un autogol di Perrotta sul lancio di Carcalis. Siamo nella ripresa di Paolo Antonio, affonda, arriva Paolucci, bicicletta come la chiamano, respinta da Forte. Ancora il Teramo con Lenoci sul cross di Brugaletta, sfiora il pallone e la palla lambisce il palo. Poi punizione di Lenoci, siamo al quarto d'ora della ripresa, Vivarini comincia a usare anche la panchina, entra Cecchini al posto di Perrotta, poi entra anche Moreo, qui c'è una conclusione a fil di palo di Di Paolo Antonio, la palla che termina fuori di un soffio. Continua ad attaccare il Teramo, qui dovremmo essere vicini al pareggio, sì, la palla per Di Paolo Antonio dopo il cross di Cecchini, arriva Madio, botta di prima intenzione, palla nell'angolo, non ha da fare questa volta per Forte, e dunque al settantesimo il Teramo ripristina la meritata parità. La maceratese continuerà a difendersi, il Teramo continuerà ad attaccare, ma non ci saranno più grosse palle gol per la squadra bianco-rossa, se non uno spunto di Cecchini sulla sinistra, qui abbiamo rivisto il gol di Stefano Amadio, terzo gol stagionale dopo quelli segnati all'Arezzo e al Tutto Cuoio, l'ammunizione per Forte, poi ecco qui Cecchini, fortunato in un rimpallo, tira con il destro, forte in maniera goffa, blocca in due tempi, e poi la partita si trascinerà così, con gli attacchi del Teramo, fino al 93esimo, 1-1 al Bonolis. Abbiamo avuto delle occasioni che potevamo sfruttare meglio, negli ultimi 30 metri, siamo arrivati diverse volte a tirare in porta, e purtroppo gli episodi condizionano sempre il risultato della partita. Poi c'è stato l'incidente a fine primo tempo, che avrebbe ammazzato un elefante, però la squadra ha dei valori importanti, ha una qualità importante, sa stare in campo, abbiamo cambiato subito a setto nel secondo tempo, abbiamo spinto un po' più sulle fasce, e penso che il risultato del pareggio ci sta stretti, perché sicuramente meritavamo qualche cosa in più. Serie D, sul messaggero, vola il Chieti di Marino, e allontani i play-out, due gol in sette minuti, il fan è costretto alla resa sotto la pioggia, battente per i neroverdi, il quarto risultato utile e consecutivo, il futuro adesso sorride, il lavoro dei ragazzi comincia a dare frutti, dice il tecnico Umberto Marino. Amiternina K.O. a Recanati, dopo un buon primo tempo, in basso tripletta di Di Curzio, l'Avezzano rivede la luce, e ora sul centro, sempre le pagine sulla serie D, Chieti, vittoria e applausi, i neroverdi superano il fano, quarto risultato utile e consecutivo, assegno Dos Santos su rigore, e Fiore, che a un quarto d'ora dalla fine chiude la contesa. Amiternina senza scampo in casa della Recanatese, Brusco risveglio in trasferta per i giallorossi, e poi l'Avezzano si riscatta e batte la vice capolista di Curzio Tripletta, mattatore della sfida vinta contro i quotati marchigiani, vano il tentativo degli ospiti di riaprire la contesa con un gol nel secondo tempo, e poi in basso Giulianova, oggi la decisione su Gelsi e Pisano, dopo la sconfitta d'opera del San Nicolò nell'anticipo di sabato, il patron medita di lasciare. E allora, spazio ai due servizi, la vittoria, o meglio, le vittorie del Chieti sul Fano 2-0 dell'Avezzano sul Matelica 3-1. Al patron Pomponi va riconosciuta una dote, quella di essere un buon comunicatore. Eloquente è stato il segnale che ha lanciato nell'ambiente calcistico con l'installazione del montacarichi, a beneficio degli sportivi diversamente abili. Un gesto distensivo che attenua le frizioni esistenti tra la calcio Chieti e l'amministrazione comunale per la agognata e discussa gestione dello stadio Angelini. Ma la domenica a Neroverde è quella che tiene banco allo stadio nell'incontro diretto dalla signora Valentina Finzi, che non ha tregua nel seguire le ricorrenti azioni offensive del Chieti, che subito al quarto, dopo una maretta in area granata, con Fiore cerca la rete del vantaggio, che potrebbe arrivare con la bella intuizione di Comini, che conclude di poco a lato. La squadra ospite non è remissiva, anzi, coralmente si disimpegna e con rapidi fraseggi raggiunge spesso la profondità. Su calcio d'angolo a rientrare c'è la vera prima occasione a sorpresa da parte di Ambrosini. I padroni di casa sono convinti dell'approccio positivo e ci provano con Dos Santos, tiro di forza che scuote la tifoseria teatina. Il Fano non è vittima sacrificale, si affida alle rifiniture di Marianeschi, alle sortite di Sivilla e Gucci, sempre reattivi e precisi nel trovarsi nella giusta posizione per offendere. Come al trentacinquesimo, quando l'attaccante granata manda la sfera di poco a lato. E due minuti più tardi, sempre Marianeschi punta la porta, con Romaniello bravo ad opporsi. La signora Valentina, sicura e autorevole, senza alcun recupero, chiama la pausa rigeneratrice. Nessun cambiamento nella ripresa, con i teatini sempre convinti, con un modulo offensivo ampiamente meritevole del vantaggio, che potrebbe arrivare al 54esimo, ma la rete di Massimo è annullata per fuorigioco. E dal 55esimo sempre con Massimo, che centralmente chiama all'intervento l'estremo Marcantonini. La pioggia non infastidisce gli obiettivi dei contendenti, i riflessi non si annebbiano, la concentrazione non cala, ma al 21esimo una mancata chiusura difensiva del Fano permette a Dos Santos di penetrare l'area granata e di assicurarsi la massima punizione. Espulsione del centrale Torta e rete dal dischetto del capocannoniere Nero Verde. Fano in dieci, che perde l'ordine tattico, creando evidenti opportunità per la squadra di Marino, che al 38esimo sigla il doppio vantaggio, con Fiore, che fionda inesorabilmente sul secondo palo. Il terreno viscido favorisce l'amministrazione del gioco dei padroni di casa, consapevoli mentalmente di poter consolidare il risultato che dopo quattro minuti di recupero viene sancito dalla signora Valentina Finzi. Nero Verdi sotto la curva Volpi a condividere il successo con la sana fisicità dei tifosi Nero Verdi e Granata. Di Curzio batte il Matelica 3 a 1. Dopo un lungo digiuno, infatti, l'avezzano torna all'appuntamento con la vittoria, superando i marchigiani e allontanando così i venti di crisi, grazie ad una tripletta del ventenne attaccante bianco-verde che aveva già segnato due gol nella gara con il Chieti. Al De Marsi i ragazzi di Lucarelli hanno interpretato la gara nel modo migliore offrendo una prova di grande concretezza al cospetto di un Matelica sottotono anche per via dell'assenza di Vittorio Esposito. L'avvio è come prevedibile equilibrato fino al quarto d'ora quando Menna se ne va sulla destra e crossa centro area per Di Curzio che deve solo appoggiare il pallone in rete per l'1-0. L'attaccante Marsicano poi si alza la maglietta e fa vedere una scritta e per questo viene ammonito dal severo Natilla di Molfetta. Al diciottesimo arriva la risposta degli ospiti con un tiro di poco a lato di Acchetta, con Davino comunque sulla traiettoria. I padroni di casa credono nella vittoria quando possono, si fanno vedere dalle parti di Nobile che poi al ventiseiesimo non può nulla sul contropiede di Di Curzio che si fa a 50 metri di campo prima di presentarsi davanti all'estremo marchigiano superandolo con un perfetto diagonale. La formazione ospite appare disorientata e attacca in maniera confusa non riuscendo quasi mai a presentarsi minacciosa nella metà campo avezzanese. L'unico acuto bianco-rosso arriva al quarantatresimo quando Acchetta si ritrova solo in area tentando la conclusione al volo ma svirgolando clamorosamente il tiro con il pallone che finisce fuori. Al quarantaseiesimo c'è poi una ghiotta opportunità per Bisegna ma Nobile dice no deviando il pallone in calcio d'angolo. Nella ripresa si riprende con un Matelica più determinato ma al quinto è Bisegna dalla distanza chiamare alla parata a terra in due tempi Nobile che poi corre un brivido al quattordicesimo quando lo scatenato di Curzio in aria si allunga il pallone sprecando una buona opportunità. E così un minuto dopo arriva il gol ospite con Pesaresi che di potenza supera Davino riaprendo la gara almeno per qualche minuto. Al ventunesimo c'è poi un salvataggio miracoloso di Menna su Acchetta al momento della conclusione dell'avanti ospite. Il Matelica spinge ancora e al ventiduesimo è Pesaresi a sprecare davanti a Davino al ventitresimo ci prova in rovesciata Borghetti con Davino che è attento il Matelica attacca ancora e al ventiquattresimo è Frinconi a chiamare alla parata a terra il portiere di casa. La squadra ospita attacca a pieno organico con Lavezzano che soffre stringe i denti e trova poi il Tris ancora con Di Curzio che firma così una tripletta che da sola vale il prezzo del biglietto. Nel finale a punteggio già acquisito al quarantasettesimo da segnalare anche il poker fallito da Bisegna ma forse per gli ospiti il 4-1 sarebbe stato davvero un punteggio troppo severo. E andiamo a chiudere con basket e pallavolo in A2 una domenica agrodolce Roseto sbaglia tutto in un finale concitato gli errori al tiro danno la vittoria a Treviglio a un Treviglio in gran forma 91-94 il finale abbiamo concesso troppi rimbalzi per l'allenatore degli Sharks e questa è la chiave della sconfitta però dispiace perdere in volata Vertemati raggiante abbiamo vinto con le stesse armi dei nostri avversari Chieti torna a vincere scaccia i fantasmi la proger contiene il tentativo di rimonta del Ravenna finisce 74-68 con 19 punti di Monaldi e 23 di Armwood il presidente di Cosmo salvezza vicina il vice allenatore di Paolo un po' di paura nel finale ma è andata bene per la Serie B Weirortona punita con il tiro da Tre perde 86-81 a Senigallia appunto un K.O. dovuto soprattutto alla precisione dall'arco dei padroni di casa mercato in arrivo la guardia Gentili le parole della guardia Gialloretto per fortuna adesso arriva la pausa Vasto paga un brutto avvio dopo il primo quarto la BCC gioca alla pari ma non basta finisce 68-77 per Falconara Campli, Batosta, Monte Granaro i farnesi si arrendono sul campo della capolista dopo quattro successi di fila 82-61 il finale e poi ancora per la palla a volo la Sieco risorge e torna a sperare gli ortonesi chiudono col Civita Castellano la serie negativa e si rilanciano nella corsa per i play-off ecco il successo in 4-7 18-25, 25-16, 25-16 26-24 la vittoria appunto della Sieco Ortona chiudiamo qui questa nostra rassegna stampa odierna vi ricordo gli appuntamenti col TG6 ore 14, ore 19 e ore 23 e vi ricordo anche l'appuntamento delle ore 21 con replay di Enrico Rocchi per un desueto lunedì di vigilia vigilia appunto di Pescara Trapani è tutto grazie per l'attenzione grazie anche a Gianni Lareo in regia io vi auguro una buona giornata grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti